Allora, buongiorno Enrico Ferrari e benvenuto al podcast di Office of Cards. Ciao Davide, grazie di avermi invitato. Senti, dico buongiorno perché per me è sera, ma per te è giorno, sei basato a New York quindi ti becco a metà giornata, io invece sono più o meno al crepuscolo. Senti, Enrico, con te volevo raccontare due storie. Tu hai fatto un po' marketing nella tua vita, ma vedo che sei partito dal performance marketing che è un marketing fortemente data-driven. Io sono sempre stato convinto di una cosa, ho iniziato a fare le conferenze la prima volta quando sono andato a vivere a Londra nel 2014-2015 e mi trovavo spesso a parlare del valore di usare i dati per prendere le decisioni. E una delle cose che finivo sempre, diciamo per tirare un po' acqua al mio mulino nelle mie presentazioni e le conferenze era, secondo me, uno che sa leggere i dati di un business e sa raccontare storie, può gestire praticamente qualsiasi business. Io avevo questo profondo convincimento che poi negli anni ho solo trovato confermato, quindi devo dire, secondo me è un'ottima chiave di lettura perché nel raccontare la prima parte del tuo percorso mi piacerebbe parlare a coloro i quali oggi sono magari ancora in una fase diciamo beginner di carriera e magari non hanno capito l'importanza che avrà nel futuro perché già ce l'aveva quando noi eravamo agli inizi del nostro percorso e oggi è solo di più. Quindi l'importanza che ha capire il dato per poter prendere una decisione di business che sia misurabile, che sia ripetibile, riproducibile che ci permetta, nel caso in cui la decisione è sbagliata, di tornare al modello e capire qual è la sanction che abbiamo sbagliato, eccetera, eccetera. Poi invece nella seconda parte vorrei approfondire una cosa che tu scrivi ce l'ho qui di fianco nel tuo About su LinkedIn che è una cosa molto recente, no? Perché tu scrivi, oggi io aiuto founder e CEO di startup, eccetera, eccetera ad accelerare la loro crescita, no? E poi dici, lo faccio facendo il board, l'advisor, strategico operational growth marketing projects, fractional, CMO, CGO, COO oppure due diligence di tech company growth for private equity e medio capital firms. Questo, perché mi interessa approfondirlo? Perché tante persone che, come te, come me hanno avuto la fortuna di vedere tot numero di industrie vedere tot, di accumulare punti esperienza chiamiamola così oggi si trovano di fronte a un bivio un bivio professionale ma anche di vita che è quello di dire lavoro per un solo datore di lavoro a cui vendo più o meno 40, 50, 60 ore del mio tempo in cambio di euro e andiamo avanti così oppure cerco di trovare il modo di mettere la mia esperienza al servizio di più entità diverse fra loro con un trade off se vuoi sulla certezza dello stipendio a fine mese o quello che sia però con un grande beneficio in termini di varietà in termini di diversificazione dell'ingaggio diversità dei problemi che ci troviamo ad affrontare eccetera eccetera è una cosa su cui te lo dico subito ci sto passando anche io ti farò tante domande egoiste però ho tanti amici che stanno facendo queste riflessioni e quindi io sono convinto che quando arriveremo a quella parte della tua vita creeremo del valore per tutte le persone che oggi si trovano dove hanno fatto 10, 15, 20 anni di esperienza in determinate industrie hanno sviluppato un set di competenze che possono essere utili a tante realtà e magari vogliono immaginare un futuro professionale un pochino più fluido dove guadagnano un pochino in libertà guadagnano in diversità delle sfide come dicevamo prima e potenzialmente possono avere anche più impatto perché invece che dare tutto a un solo datore di lavoro lo dai a 10, 15, 20 in maniera fractional come dicevi prima e conseguentemente riesco anche ad aiutare più realtà e io lo dico sempre quando metti la tua esperienza al servizio di uno che la apprezza è una delle sensazioni più belle del mondo al di là che poi alla fine ti pagano però è una delle sensazioni veramente di fulfillment perché dici cavoli questa cosa l'ho abilitata io qua dentro l'abbiamo voluta fortemente entrambi io ti ho dato un consiglio tu l'hai seguito il risultato è arrivato siamo contenti tutti ecco questo secondo me almeno personalmente è una delle cose che mi fa stare meglio quindi Enrico io nel darti nuovamente il benvenuto al podcast ti faccio l'unica domanda che come sempre io ho nel mio script e poi da lì partiamo con le nostre montagne russe che è da dove viene Enrico Ferrari? benissimo grazie grazie anche della premessa dei due bellissimi temi che vuoi affrontare oggi insieme Enrico Ferrari viene da una piccola città chiamata Carpi la conosci? certo che la conosco è sul tratto Modena-Verona è una delle ultime dell'autostrada se non sbaglio bravissimo infatti siamo fortunati perché abbiamo l'uscita dell'autostrada è un piccolo borgo medievale molto bello una bellissima città con la terza piazza più grande d'Italia gigante da piccoli quando giravamo nel periodo dell'adolescenza si diceva facciamo le vasche a Carpi perché facevamo avanti e indietro per la piazza vedere chi girava incontrare amici e fare due chiacchiere ok e sono andato lì ho avuto un'infanzia molto felice due genitori stupendi due fratelli uno più grande uno più piccolo non ho avuto grandi cosa facevano i tuoi genitori? i miei genitori? non lavora non vendono automobili ecco ok questo è quello che mi chiedono tutti solo una volta mi è capitato nella vita qualcuno mi chiedesse qui in America ma tu hai qualcosa a che fare con l'azienda che fa spumanti mi è capitato solo una volta sola tutti gli altri mi hanno sempre chiesto se ho a che fare con le automobili ok i miei genitori sono imprenditori entrambi è bello che parliamo di questo tema perché secondo me anche qui ci si ricollega con l'importanza del dato il dato dello storytelling perché mia mamma e mio papà hanno avuto sempre due ruoli molto diversi in loro business sono imprenditori nel mondo della moda fanno accessori della moda all'ingrosso e la mia mamma è designer quindi è la persona più creativa il mio papà è più quello che si occupa di dati e di finanza e quindi c'è sempre stata questa contrapposizione tra la mia mamma che ha sempre cercato idee creative opportunità di design per costruire nuovi pezzi per creare nuovi pezzi il mio papà invece è quello che ha sempre gestito l'attività aziendale dal punto di vista finanziario ma questo è molto interessante anche perché io ho sempre detto le coppie che io trovo più interessanti sono quelle che stanno su un equilibrio estremamente delicato ma su due lati opposti della diversity scale perché io mi ricordo sempre uno dei miei primi capi che ho anche intervistato in questo podcast era CFO percorso consulenza tradizionale BCG eccetera eccetera e quando gli ho chiesto ma cosa fa tua moglie lui mi risponde fa la cantante ho fatto una faccia così ho detto what? e lui mi fa sì ho scelto la diversity ed effettivamente è molto interessante come portare in casa tua una persona che ha un punto di vista diverso dal tuo se lo sai ascoltare cioè se sei aperto alla diversità come modo per creare valore no? come vedere un problema da un punto di vista diverso o anche come complemento a uno ok? il budget familiare lo faccio io la vacanza la organizzi tu tu sei più creativo ti verranno idee più interessanti io mi assicuro che non sforiamo e se ciascuno poi e questo è anche vero nelle dinamiche di team rispetta i ruoli si creano delle super potenze perché alla fine riesci a spingere al massimo su tutte le dimensioni dando a ciascuno il suo ambito no? di manovra e la sua leadership funzionale su un pezzo del processo e quindi questo secondo me anche porto a casa il punto che hai appena detto dicendo un'altra delle cose che cerco sempre di fare quando assumo è mappo le skill che ho a disposizione ma non competenze di prodotto perché con quello è facile ma anche skill interpersonali come dicevi prima la parte analitica la parte creativa la parte di processo quello che vuoi cerco di capire all'interno delle risorse che ho a disposizione cosa ho di forte e quindi lì lascio stare cerco di non toccare e cosa invece magari ho scoperto e lì provo a inserire magari degli elementi poi chiaramente devi assicurarti l'ho detto prima l'equilibrio è delicato devono essere tutti disposti ad ascoltare devono la governance chiamiamola così deve essere abbastanza chiara però il valore che può essere creato quando c'è un contesto di questo tipo gestito bene è come un po' un'orchestra sinfonica sono tutti dei fenomeni sul loro singolo strumento se poi hai il conduttore giusto produci delle sinfonie meravigliose mi pare che tu stai dicendo questo all'interno della tua orchestra due componenti padre e madre in famiglia esatto ottima analogia infatti anche come come imprenditore come founder si parla spesso di avere co-founder che siano complementari è una cosa vera è importante deve esserci allineamento deve esserci lo stesso orizzonte nel quale si per il quale si lavora per il quale si ottimizza ma deve esserci questa complementarità è fondamentale certo quindi cresci figlio di due imprenditori che diciamo hanno ciascuno la sua attività o lavoravano insieme? no hanno lavorato insieme hanno costruito questa piccola azienda negli anni 80 Carpio è la famosa per l'industria tessile quindi mio papà mio papà ha origini molto umili nel senso che non veniva da una famiglia da una famiglia ricca e nemmeno mia mamma e quindi ha dovuto un po' farsi da sé non ha neanche mai avuto istruzione oltre le scuole medie non ha avuto la fortuna di poter andare in università e ha trovato ha trovato un problema da risolvere ha trovato il timing giusto un mercato nel quale entrare e insieme a mia mamma con le loro con le loro abilità complementarie hanno deciso di costruire questa cosa insieme ok ok quindi questo il labbring chiamiamolo così no? poi il tuo percorso dove dove lo facciamo cominciare cos'hai studiato per esempio? io ho studiato economia aziendale durante durante la laurea triennale poi ho fatto ho fatto finanza quantitativa praticamente nella laurea specialistica ok poi ho fatto un MBA più tardi e cosa volevi fare però perché siccome adesso vedo che sei finito a fare un mestiere diverso quando tu hai fatto finanza quantitativa immagino che tu avessi una vision di te su una certa professione cioè io dico sempre la laurea va vista come un abilitatore non come un fee molti la vedono ho preso il pezzo di carta no bravo hai cominciato la maratona sei uscito dei blocchi adesso perfetto dopo 5 anni di studio la laurea va vista come un abilitatore cioè io voglio fare quella cosa lì cerco diciamo non solo il pezzo di carta ma anche soprattutto il placement il network eccetera eccetera che con maggior probabilità mi porta in quella direzione tu che direzione ti volevi dare e poi che direzione hai preso che non credo fosse quello speculo eh poi adesso ce lo dici tu ma non credo fosse quello mi fa una domanda molto interessante sono felice che parliamo di questo perché numero uno per me era molto importante andare all'università principalmente perché una cosa che una cosa a cui penso spesso nella vita è che tante persone magari vivono la vita secondo le circostanze che hanno e rimangono vicini al posto in cui sono però era molto importante invece poter provare a me stesso la capacità di riuscire a costruire qualcosa da solo indipendente magari di finire un posto diverso rispetto a quello in cui ho iniziato e ho visto anche nella parte accademica nella vita l'opportunità anche di fare questo e ho studiato economia aziendale perché era la cosa che più capivo al momento al momento in cui ho deciso di studiare ho pensato ok io voglio fare l'imprenditore come il mio papà e come la mia mamma è una cosa che a me che a me piace molto mi piace l'idea di creare mi piace l'idea di costruire qualcosa di mio e penso che imparare le nozioni di economia aziendale anche a livello accademico non solo a livello pragmatico come lo imparate durante gli anni della mia vita quando sono cresciuto sarebbe stato importante e perché poi sono finito fare finanza come laurea specialistica non tanto perché fosse interessato in finanza ma perché cercavo qual era la cosa che mi potesse dare le competenze più complicate all'interno dell'università finanza quantitativa è molto è molta statistica è molta matematica e io avevo riflettuto molto sul fatto che tante cose che si studiano all'università ti aiutano sulle competenze trasversali no? le soft skills ma la verità è che tante delle competenze trasversali si spesso si imparano meglio con la vita facendo il manager lavorando avendo a che fare con le persone è più difficile impararle sul libro mentre le competenze invece più complicate le abilità più difficili competenze quantitative è molto difficile impararle sul lavoro con le basi con le nozioni base ah ok quindi hai detto o sfrutto l'università per quello per cui l'università può darmi il massimo altrimenti non sto massimizzando l'investimento di tempo quella era la ragione la ragione era voglio fare cose difficili perché mi aiutano a migliorare le mie competenze e queste competenze potrò utilizzarle anche nel mondo del lavoro e in effetti è stato così è stato fondamentale per me quello che ho studiato all'università mi ha aiutato tantissimo negli anni nella vita ed è stato il primo abilitatore che mi ha permesso ad ottenere il mio primo lavoro che poi è stato il il catalyst per tutto il resto che ho fatto nella vita certo ma tra l'altro mi sollevi un punto interessante perché secondo me ci sono due fattori in quello che dici uno l'hai esplicitato l'altro è implicito e lo voglio esplicitare e chiederti se sei d'accordo quello che hai esplicitato è chiaramente diciamo l'uso attivo di quello che ti può dare l'investimento di tempo cioè io so che questo è difficile ergo se imparo una cosa difficile bene perfetto mi sono messo un bagaglio che poi comunque sia in qualche modo nella vita utilizzerò mai che vada ho imparato a far fatica ok che comunque è una cosa fondamentale e mi fa vincere perché la resilienza la capacità di gestire lo stress di cose che non so fare ma entro la data giornata devo saperle fare perché c'è il compitino c'è l'esamino c'è l'interrogazione c'è quello che vuoi quindi questo secondo me ottimo spunto che tu hai esplicitato secondo me di implicito c'è anche il chiamiamolo effetto alone se vuoi no del fatto che tutti sanno da attori di lavoro incluso che quel corso è difficile ergo se uno viene fuori da lì scemo non è e questo secondo me aiuta molto perché poi ovviamente contano i voti conta quello che vuoi però io dico sempre no purtroppo al giorno d'oggi a parte che dal giorno della laurea in poi c'è un fattore di decadimento significativo del valore del voto mentre rimarrà sempre significativo tanto quanto il valore dell'università che hai fatto ok quindi io dico sempre essere con 110 in un'università sconosciuta bravo però questo è Siri che ha preso iniziativa essere 110 su università sconosciuta essere magari 99 su università stranota secondo me è meglio la seconda perché ripeto sul primo lavoro magari quello del 110 forse ti frega ma da lì in poi dire che hai fatto il Politecnico la Bocconi insomma le università o meglio ancora poi le università straniere che sono ancora più grave delle nostre a fare branding non a fare formazione a fare branding e quindi l'alone che uno si porta a dire ah io ho studiato a Harvard io ho studiato a Stanford io ho studiato a MIT cioè la gente ti guarda e pensa che tu sei un genio anche se sei un pirla che ha avuto l'opportunità di andare lì a studiare quella cosa quindi non so se tu hai avuto anche questo effetto sia cioè se l'hai visto sia sul tema della laurea che anche sul tema dell'NBA più che altro perché ripeto volendo dare a chi ci ascolta dei consigli anche magari dice ho capito io la laurea l'ho fatta all'università di non lo so Pesaro e Urbino non la conosce nessuno sono fregato no puoi fare magari un master qualificante o anche un corso senza fare un master che costa un sacco di soldi sull'università che ha una zona un po' più grande e poi ti metti quello bello visibile sul CV ho fatto questo corso Harvard Stanford quello che vuoi e ti danno una mano come lo vedi Enrico? guarda in realtà in realtà per me questo effetto alone ce l'ho avuto di più su me stesso che non sulla mia vetrina rispetto a quello che il datore di lavoro avrebbe potuto pensare su di me spiego meglio io sono sempre stato una persona come tante altre come più o meno tutti penso un po' insicura e venendo da una venendo da una realtà in cui tante di queste cose nella vita non le ho potuto dare per scontate come la parte accademica mi sono ritrovato in un posto in cui la mia ipotesi di base era che tutte le persone intorno a me erano più qualificate e più bravo ed è stato molto importante per me riuscire a colmare quell'insicurezza interiore facendo le cose più difficili che quell'università potesse offrirmi ok quindi per me io ho sempre Davide ho sempre vissuto la mia vita in competizione contro me stesso mai in competizione con le altre persone del mondo è sempre stato per me l'obiettivo quello di diventare meglio rispetto alla persona che ero ieri e l'obiettivo rimane quello di diventare domani meglio rispetto alla persona che sono oggi questa è una componente molto importante per me anche perché una delle grandi realizzazioni che ho avuto nella vita è che se noi pensiamo alla vita come un libro di infiniti capitoli che tutti ai quali tutti partecipano una cosa importante da sapere è che nessuno parte dallo stesso capitolo c'è chi parte già dal capitolo 20 chi da quello 50 e chi invece deve fare tutto lo sforzo per partire dal numero 1 e quindi non ha senso per me lavorare in competizione con il resto delle persone nel mondo ma ha senso per me cercare di arricchire e migliorare in senso relativo la persona che sono rispetto a quello che ero ieri e quindi ho sempre visto nell'acquisire competenze difficili l'opportunità per migliorarmi in modo in modo massimale e ottimale dal punto di vista relativo ha senso? ha senso e te la provo a portarla a casa così senza scomodare caro il duec ma voglio dire mi rimane difficile non farlo tu è come definito il concetto di growth mindset dove dici per me il tema non è essere il migliore nell'ottimo locale cioè prendo quelle che mi stanno intorno sono il più figo no io sono l'ottimo globale ma di me stesso e poi mi guardo intorno vedo dove sono gli altri prendo atto e continuo la mia gara su me stesso e questo secondo me si lega a doppia mandata con l'idea di scegliere l'università difficile perché uno che vuole primeggiare sugli altri non andrebbe mai sull'università difficile perché lì ci sono quelli più bravi la probabilità di essere il primo è molto bassa perché ci sono i fenomeni ergo vado a prenderne una un pelo più facile dove sarà più facile richiederà meno sforzo torniamo anche al discorso di prima della fatica richiederà meno sforzo portare a casa l'obiettivo che voglio che non è imparare cose ma essere il primo della classe sono due cose molto diverse molto e quindi secondo me è bello questo terzo angolo che è portato sul tavolo perché allora volendo dare a chi ci guarda a chi ci ascolta un suggerimento è guardatevi dentro cioè dovete capire che cosa conta per voi nella scelta che fate perché la scelta è a doppia mandata su quello che vi portate a casa a livello concreto la formazione il titolo di studio il brand le cose di cui abbiamo parlato prima ma anche quello che vi portate a casa a livello di realizzazione professionale relativamente a quello che vi rende veramente felici perché tu a quel punto dici io mi slego dal voto cioè la mia felicità non è legata al voto ma è legata all'apprendimento al percorso e questo ripeto chi non l'ha letto se lo andasse a leggere perché il libro di Carol Duecca secondo me è un è un masterpiece da questo punto di vista e secondo me è scritto molto bene nella misura in cui non solo spiega bene la teoria ma spiega anche quelle piccole stupidate del modo di parlare che noi abbiamo che ti fanno capire se cadi nel campo del growth o nel campo della mentalità statica adesso non mi ricordo come lei la definisce però sì la mentalità fixed fixed mindset quindi mi fai venire molto in mente quei miei compagni di università che per ottenere il 110 lode facevano i cosiddetti esami fuffa esatto bravo sai cosa ho fatto io io ho fatto ho fatto sono stato l'unico a fare la tesi con il professore che tutti temevano quello di econometria ho fatto una tesi su survivorship bias ok una tesi sulla statistica abbastanza complicata che mi ha richiesto sei mesi di lavoro ma a me non interessava arrivare al 110 lode a me interessava acquisire competenze e lavorare con la gente molto più capace di me perché in quel mondo lì avrei avuto la possibilità di crescere una possibilità di crescere enorme certo tra l'altro come dice Dweck ma io mi trovo assolutamente d'accordo quelli che come te tendono a concentrarsi sul percorso e non sul risultato sono quelli che non solo arrivano ai risultati migliori ma tendenzialmente si godono il viaggio quindi come dire direi che direi che va abbastanza bene senti quindi ti laurei in finanza però finanza non vuoi fare e non finisci a fare che cosa succede a quel punto succede beh a quel punto sono successe tante cose in realtà perché quello era il 2012 purtroppo nel maggio del 2012 c'è stato un grande terremoto che ha colpito la mia città e abbiamo perso la casa quindi è stato un momento abbastanza difficile tre giorni prima della mia laurea wow ero nella biblioteca a Milano in università e ho sentito il terremoto a 180 km di distanza immaginati come sarebbe stato viverlo lì per fortuna nessuno nella mia famiglia è stato colpito dal punto di vista fisico cioè dal punto di vista della salute però purtroppo abbiamo perso la casa quindi lì tutte le idee che avevo sulla mia vita sulla mia carriera dove avrei potuto fare ho dovuto per un momento metterle nel cassetto e sono tornato a casa sono tornato a vivere a Carpi per sei mesi e vivevamo praticamente a piano terra tutti quanti con materassi gonfiabili e ho aiutato un pochino la mia famiglia a ricostruire un po' le cose però dentro di me sentivo una volta che tu apri quella sai l'ambizione è una cosa che viene l'appetito per l'ambizione viene mangiando più vedi cose più ti si aprono porte nella vita e quando apri quelle porte è difficile tornare indietro quello che ho visto andando all'università quello che ho visto vedendo anche cosa i miei colleghi dell'università stavano facendo mi ha aperto delle porte nella vita che poi non sono più stato in grado di chiudere quindi vivere a Carpi tornare indietro sarebbe stato molto piccolo per me quindi sono passati un po' di mesi ho aiutato come potevo e poi è stato il momento di dire ok devo continuare con la mia vita allora lì ho dovuto decidere che cosa fare avevo sempre in mente di voler fare l'imprenditore ai tempi c'era Rocket Internet stava diventando una realtà importantissima io vedevo colleghi di università che andavano in Malesia in Indonesia andavano in Australia andavano dappertutto in giro per il mondo e praticamente gli veniva date un sacco di responsabilità per crescere questi business digitali nel mondo e-commerce ho detto wow quello è il mondo in cui voglio partecipare voglio essere parte di quella realtà e voglio acquisire quelle competenze pratiche per poi fare l'imprenditore io e così ho fatto domanda per entrare a Rocket Internet sono stato rifiutato ho fatto tre sono stato rifiutato in tutti i posti e stiamo parlando di uno stage ok mi hanno rifiutato dappertutto tutti quanti scusa adesso questo me la racconti scusa me la racconti nel dettaglio questa però volevo fare un inciso sul discorso che hai fatto prima così poi lo abbandoniamo sul discorso che Carpi era piccola ok allora io sono provinciale come te sono nato 90 km a nord quindi voglio dire anch'io piccola provincia e sostanzialmente io ho un sacco di amici che sono nati cresciuti e certamente moriranno a Verona e sono felicissimi ok e spesso la gente mi dice ma tu vai a Milano ti sei complicato la vita eccetera eccetera io alla fine non dico che sono più felice o meno felice dico però questo io so cosa mi sarei perso se avessi deciso di stare a Verona perché a Milano ci sono stato ci sono stato anche a Londra a Amsterdam ho visto un po' di robe questo mi porta oggi ad una consapevolezza di ciò che mi piace e ciò che non mi piace molto più certa rispetto a uno che ha un solo data point ok e questo secondo me è importante siccome molti di quelli che ascoltano questo podcast vivono in provincia io dico sempre se riguardi da fuori sono felicissimi però la domanda è sei sicuro che questo sia il top perché è il top o è il top perché è l'unica cosa che hai visto e ti sei rifiutato sistematicamente di guardare altrove io dico sempre secondo me un minimo di esposizione soprattutto finché si è giovani e ci si può più o meno muovere senza troppi vincoli è è una cosa da fare quantomeno per portarsi il ventaglio di punti di vista da 1 a N con N grande a piacere 2 o 10 e poi dire ok ho visto queste situazioni e secondo me questa è quella giusta e se questa è Carpi va bene ma lo dici con una consapevolezza molto superiore se hai visto un pochino di mondo nel frattempo e poi te la godi più di tutti quelli che non hanno mai visto diventatelo che Carpi perché tu hai visto la differenza e hai scelto Carpi invece che trovartici e poi non metterla mai in discussione non so non so come tu come tu la vedi perché poi io adesso condivido anche una cosa abbastanza personale ma dopo tutti gli anni che ho fatto in tutte le macro città dell'universo adesso non mi dispiace l'idea di vivere in provincia no? ma dopo tutti gli anni che ho fatto nelle macro città dell'universo se fossi stato sempre in provincia direi ma è che magari capito? e questo secondo me è un punto che volevo cristallizzare perché l'hai detto e mi sembrava di valore hai scalato la montagna e poi hai deciso di tornare indietro alla base ci sta è una cosa che si può fare ma io non non mi sento di di giudicare in modo negativo chi decide per tutta la vita di rimanere nel posto in cui è partito perché una cosa che ho imparato anche nella mia vita è che ogni persona ha diverse KPI che ottimizza e per me magari nella mia vita ci sono cose che voglio ottenere che sono molto diverse rispetto alle persone che ho conosciuto quando ero piccolo nella città di Carpi certo tante persone hanno anche circostanze personali dove devono stare vicini ai loro genitori devono stare vicini alla loro famiglia ci sono esigenze che magari hanno che non permettono loro di viaggiare all'estero e di avere tutte le esperienze che ho avuto io secondo me sono entrambi i modi validissimi di vivere la vita certo se uno ha la possibilità lo consiglio tanto di fare un'esperienza all'estero perché apre l'opportunità a tante culture ma non penso sia l'unico modo per poter essere aperti mentalmente a tante opportunità e se uno è felice di essere dov'è è una cosa da invidiare o da ammirare molto perché c'è anche chi come me che non ha trovato casa un posto dove stare per tantissimi anni ho viaggiato tanto ma non ho mai trovato in Berlino o in Sydney o Milano il posto dove avrei voluto stare per il resto per il resto della mia vita speriamo che New York sia questo certo adesso ci arriviamo però torniamo un attimo a Berlino ti ho interrotto scusami ma volevo cristallizzare il pensiero hai applicato tre volte a Rocket Internet per uno stage e ti rimbalzano questa è una bellissima failure story raccontaci un attimo perché allora tu volevi andare lì e dici cavolo io no continuo ad applicare però ti rimbalzano una ti rimbalzano due ti rimbalzano tre e a quel punto cioè come ti senti come la vivi e soprattutto dici ok ma non ho rimbalzato cosa faccio sì beh da lì nasce un momento di riflessione la prima cosa che si fa è perché mi hanno rimbalzato avevano ragione tante volte una cosa che dico ai ragazzi più giovani di me ragazzi e ragazze più giovani di me non prenderla sul personale perché tante volte ci sono mandi una candidatura e ci sono altre diecimila persone che hanno fatto la stessa candidatura come te e magari semplicemente in quel momento quando il il recruiter stava guardando i curriculum il tuo l'ha passato superficialmente non ha visto le keyword che cercava e è passato al prossimo tante di queste cose qua succedono sono stato come persona che ha reclutato tante altre persone mi è una cosa che ho visto fare sono umani anche loro e possono esserci tantissimi errori però quello che avevo capito è che fondamentalmente avevano ragione perché non avevo l'esperienza che mi aveva richiesta le persone cercavano qualcuno che almeno a livello accademico avesse affrontato l'imprenditoria che avesse avuto un po' di esposizione ai temi di start-ups tecnologia innovazione e-commerce e io avevo fatto finanza il mio background accademico non c'entrava nulla e loro ho detto ok ma te l'hanno dato il feedback? cioè era chiaro? no quindi l'hai dedotto tu sì l'ho dedotto io ho dovuto ci ho pensato un po' ho dovuto all'inizio l'ho presa anche io come tanti personalmente ho detto mi dispiace non capisco perché perché alla fine sono competente ho fatto tante cose difficili perché questi non vedono in me la persona giusta che potrebbe fare uno stage in questo in questa azienda però poi riflettendoci ho detto ok devo essere un pochino più devo essere un pochino più più smart su questa cosa devo capire un po' che cosa devo fare e sono arrivato alla conclusione che avrei dovuto costruire un ponte tra le competenze che avevo al momento e le competenze desiderabili per il ruolo che avrei voluto avere certo e così mi sono messo a cercare un po' in giro quale azienda potesse aver bisogno delle mie competenze in quel momento e quale azienda potesse offrire a me le competenze che mi mancavano per poter arrivare poi a fare quello che volevo tu hai cercato il centro del diagramma di Venn praticamente esattamente così esatto esatto quando si cerca un lavoro è un po' così è un po' un diagramma di Venn devi capire dove puoi ottenere valore e dove devi dare valore devono esserci entrambi certo non funziona il bilanciamento se sei l'unico a dare valore che succede quando hai tanti anni di esperienza e cercano uno che ha esattamente l'esperienza che hai tu perché è un posto in cui è difficile per te ottenere valore e non funziona anche nell'altro nel corrispettivo opposto dove dove solo solo tu hai da tranne il beneficio ma l'azienda non può fare uso delle tue competenze quindi questa cosa è molto importante e allora mi sono messo a cercare e avevo trovato questa azienda a Berlino che faceva advertising technology per il search engine marketing e stavano costruendo una tecnologia che permetteva di scalare campagne di SEM di search engine marketing su canali come Google in modo ottimale e in modo in larga scala costruendo praticamente permutazioni di parole e cercando di replicare la sintassi di una lingua in modo tale da coprire tutte le potenziali keyword che una persona poteva utilizzare sulla barra di ricerca Google per trovare un prodotto oggi lo faresti fare a chat GPT all'epoca non c'erano ancora i transformer quindi lo facevi con le permutazioni esatto esatto puoi fare tante di quelle cose su chat GPT ma anche i canali di marketing sono anche molto cambiati all'epoca dovevi fare molte cose molto più manuali rispetto a oggi c'è tanta automation all'interno dei canali stessi e così loro cercavano qualcuno che avesse competenze in statistica e matematica potesse capire queste logiche per poter aiutare i loro clienti a utilizzare il software e scalare ed è stato un match e quindi ho trovato ho trovato questa azienda ed è stato il mio primo il mio primo lavoro ed è stato all'estero a Berlino e ho deciso di di spostarmi di trasferirmi a Berlino che era anche il posto dove c'era l'headquarter di Rocket Internet per caso per pura coincidenza e quindi il tuo ragionamento è stato è uno dei consigli che io do ai giovani che hanno tempo e gli dico ok se tu vuoi lavorare nell'azienda X devi leggere la job description del lavoro che vuoi fare possibilmente parlare con due o tre persone che fanno quel lavoro in quell'azienda per essere sicuro che veramente poi con la roba ti piaccia e dopodiché devi cercare di costruire le tue esperienze che ti permettono di scrivere le stesse parole che loro hanno scritto nella job description e tu ci vedi punto questo è quello che tu hai appena detto è esattamente quello ok esattamente quel quel processo devi avere quelle keyword che il recruiter sta cercando esatto quindi hai fatto questa esperienza che tu però avevi impostato come mi serve per arrivare a cioè con completo le skill acquisisco le competenze che e poi ci riprovo vediamo se va se va bene stavolta no sì con la differenza che in realtà poi sono le mie competenze erano talmente utili in quel momento del mondo del marketing e quel momento specifico storico con tutti questi e-commerce che stavano nascendo in giro per il mondo soprattutto al di fuori degli Stati Uniti perché gli Stati Uniti sono sempre stati più avanti che è stato Rocket Internet a cercare me la vendetta grande grande rivista della vita ok ma sono un sacco di cose interessanti in realtà te la racconto un attimo perché penso che ci siano un paio di spunti ma certo quelle tre domande che avevo fatto la prima era in Australia la seconda era in Malaysia con uno spin off di Rocket Internet e la terza era nell'head quarter di Rocket Internet a Berlino in quello in Australia avevo fatto un colloquio in quella in Malaysia avevo fatto un colloquio con una persona che si era presentata quattro ore più tardi rispetto al colloquio ovviamente mi continuava a mandare messaggi mi diceva ah non ho tempo adesso ci parliamo dopo quindi è stata un'esperienza anche per un candidato abbastanza brutta invece a Rocket Internet nel quartiere generale non avevano proprio considerato la mia candidatura non ho mai ricevuto una risposta lo stesso volevo lavorare lì e cosa è successo? quando ho iniziato a lavorare in questo posto Delta Method questa azienda di advertising technology sei mesi dopo quello dell'Australia e aveva si era spostato in un'azienda in Sudafrica ed è diventato mio cliente ok quello della Malesia il capo di quello della Malesia mi aveva contattato per un lavoro che sarebbe stato a capo di quello di diventare il capo di quello che mi aveva fatto il colloquio stendici dopo ok e il terzo headquarter generale di Rocket mi hanno contattato loro per una posizione wow pensa alla vita cioè tutti e tre quei lead alla fine hanno pagato perché a quel punto diciamo tu eri nel loro radar in qualche maniera però il competence gap a quel punto l'avevi più che fillato sì mi ha aiutato tanto anche trovare questo questa azienda non la conosceva nessuno ma aveva tantissima importanza in realtà perché quello che facevano era molto sofisticato e ai tempi mi ha permesso di avere competenze che non avrei avuto in altro modo certo cioè è incredibile perché se avessi se fossi partito a Rocket Internet magari non avrei acquisito quelle stesse competenze che poi mi hanno permesso un giorno di diventare nel CMO certo ma questa è bellissima però perché veramente secondo me c'è questo aspetto anche che voglio sottolineare cioè tu l'hai fatto perfetto tu tra l'altro scrivi su LinkedIn tu scrivi Performance Marketing and Data Science Consultant allora uno che ha un'idea di cosa sia la Data Science e la associa al 2013 capisce quanto tu eri avanti perché nel 2013 forse quella parola è stata coniata o perlomeno è stata sdoganata a livello di poter essere un job title forse forse perché secondo me è stato un pelo dopo che è diventata mainstream direi più 2015 però vabbè tu a quel punto hai avuto o meglio hai fatto una scelta per completare delle competenze hai scelto molto bene probabilmente c'era stata anche una componente di fortuna perché sei stato tattico perché ti serviva però poi beccarla veramente così in crescita e così in demand non so se un laureato poteva avere quella sensibilità in generale però io quello che esatto mi sono sentito dire da un mio amico quando vivevo a Londra dice uno dei modi più sicuri per far soldi nella vita è vai in una grande azienda scopri un loro processo totalmente idiota che non ha senso esci da quell'azienda crea un software che risolve quel problema e glielo vendi a quell'azienda ok in questo modo certo per fare un sacco di soldi e io penso a te dico sì tu non hai fatto la stessa cosa ma è molto simile cioè hai preso un pezzo di un processo che c'è in tutte le aziende perché guess what le keyword su google le comprano tutte hai sviluppato una competenza verticale che ti ha reso diciamo una mosca bianca per qualche tempo perché eravate tra i pochi a farlo quindi tu eri uno tra i primi quindi nel momento in cui lo voglio internalizzare non voglio usare delta method devo assumere uno di quelli che stanno in delta method perché tanti altri non ce ne sono e a questo punto volete qualcuno io esisto ciao ciao e questi vengono in cerca di te quindi anche questo questo diciamo la conclusione di questo tuo passaggio secondo me come actionable advice per chi ci ascolta è cercate delle cose che vi rendono unici poi se avete anche un periodo di fortuna o studiate bene il mercato qualcosa di unico che sia anche molto in demanda cioè dove ci sia poi un un così un gap se oggi tu diventi oggi che registriamo questo marzo 2024 se sei un fenomeno non bravo perché bravo bastava un anno fa oggi fenomeno però è ancora on the edge se sei un fenomeno nella prompt engineering quindi a programmare le API di un GPT bot o a fare query fatte bene su un artificial intelligence client oggi comandi tu più o meno lo stipendio che ti danno per quelli che ti vogliono assumere questo secondo me sarà vero per altri 6 8 9 mesi poi diventerà anche quello non dicono commodity ma di nuovo ci sarà un'altra ondata di qualcos'altro bisogna essere estremamente tattici e timely e correre un rischio di fare la cosa difficile perché oggi se c'è come dicevi tu prima no e questo mi piace come torna perché se tu vuoi essere uno dei primi a fare una cosa quando stincarti davanti al problema non è che vai su google e c'è un video youtube che ti spiega come fare perché sei tu che devi fare quel video youtube ok perché non c'è nessuno a cui fare riferimento invece se tu hai la resilienza di uno che ha studiato la statistica rompi maroni il cleffing dalla bocconi dici minchia ho risolto quello o anche non risolva questo e in qualche maniera ce la faccio no sei d'accordo? stai ci sono temi molto interessanti qui è proprio così la parte la parte che hai detto adesso è che allora imparare a studiare è una cosa fondamentale perché se impari a studiare a passare ore e ore e ore a risolvere un singolo problema con concentrazione e con attention span continuo e sforzo quello ti permette anche di pensare è cercare di risolvere problemi complessi oggi è troppo facile per la gente andare su youtube stack overflow eccetera per poter per poter cercare di risolvere un problema la parte difficile è andare a risolvere quei problemi che non ha ancora risolto nessuno e per quella roba lì devi essere bravo devi essere focalizzato devi avere devi riuscire a utilizzare tutte le competenze che hai acquisito in modo in modo complementare trasversale quello è fondamentale un'altra cosa che hai detto che è molto importante e che condivido ed è molto importante anche secondo me per chi ci ascolta soprattutto se se si tratta di persone all'inizio della loro carriera è quello del timing del contesto perché certe certe abilità e certe competenze sono importanti in un timing in un contesto storico specifico e poi diventano commodity come tutto ai momenti ai tempi in cui ho iniziato io saper fare coding su python sapere fare data science lavorare con le API di meta google ads eccetera era una cosa che mi faceva diventare lo 0.1% del top talent sul mercato pochissimi sapevano fare sta roba pochissimi venivano dall'econometria finanziaria per fare marketing quasi nessuno e per lo schissette che serviva era proprio quello era proprio quello ma non era ancora ovvio ma non era ovvio neanche per me perché io non desideravo fare marketing io volevo fare l'imprenditore però ho capito che quelle competenze che avevo mischiate alle altre competenze che avrei potuto apprendere mi avrebbero reso molto desiderabile sul mercato del lavoro e così è successo e così è successo perché ti hanno cercato quelle delle competenze esatto e che è successo sì è una cosa che voglio dire ai ragazzi all'inizio della loro carriera che ci ascoltano perché spesso mi fanno la domanda ma allora devo imparare Python no non è questo il messaggio e al momento magari non ti permette di avere più successo rispetto agli altri in questo momento storico perché meno importante come competenza quello di unire Python al marketing è ancora importante è ancora molto utile però devi cercare di capire quali sono quelle cose che al momento in pochi hanno e che magari non sono ovvie perché non si possono chiamare né marketing né finanza magari sono un se pensiamo al al diagramma di Venn una cosa tra le due no che che magari ti permettono di essere il candidato numero uno per una certa posizione certo ma spesso volentieri non hanno ancora un nome perché non sono ancora mainstream si chiamano niente si chiamano quello che uno le chiama e due persone diverse le chiamano in modo diverso però poi diventeranno mainstream giusto senti abbiamo parlato di rollercoaster all'inizio perché oggettivamente io conosco diversi tuoi ex colleghi e quell'azienda è un rollercoaster quindi qui siamo appunto dove abbiamo abbiamo fatto la salita abbiamo fatto quel tratto in piano e adesso comincia la discesa ripida quindi ti chiamano loro e che cosa vai a fare in quel di Berlino ai tempi ai tempi avevano questa questa startup queste startup chiamate Carmudi e la Moody due startup del portfoglio a cui stavano dando molto molta enfasi perché erano due modelli di business abbastanza interessanti che esistevano nei mercati nei mercati europei occidentali ma non esistevano nei mercati emergenti erano fondamentalmente aziende per annunci in real estate e aziende per annunci di automobili ok come auto scout in Italia oppure come come gli altri come gli altri modelli per trovare per trovare casa in Italia immobiliare.it immobiliare.it esatto e avevano bisogno di qualcuno che fosse forte a livello di performance marketing e automazione perché praticamente l'idea era quella di lanciare l'azienda il business in 15 paesi in un anno e ti sto parlando di paesi come Congo Costa d'Avorio Indonesia Thailandia avevamo il Messico avevamo avevamo gli Emirati Arabia Saudita mercati di questo tipo ok tutto tutto dall'ufficio di Berlino con un team di 12 persone in cui avremmo dovuto automatizzare ogni cosa e quindi io in quel momento ero la persona giusta per fare questa cosa perché avevo sapevo come sapevo come programmare e sapevo anche avevo abbastanza conoscenza nel mondo del digital marketing le due cose mi hanno reso molto interessante per loro quindi cercavano qualcuno che venisse esattamente dall'azienda in cui stavo lavorando da cosa nasce cosa da cosa nasce cosa perché tu tra l'altro adesso questo lo spiego per gli ascoltatori che magari non conoscono Rocket Internet ma Rocket Internet aveva poi correggimi se sbaglio io ne parlo da fuori ma aveva il modello di diciamo prendere un modello di business che avevano visto funzionare in qualche posto del mondo replicarlo sui mercati in cui quel modello ancora non c'era ovunque questi mercati fossero e chiaramente la maggior parte era su destasiatico che non se lo filava nessuno Africa evidentemente per vari motivi con poi differenti presenze diciamo che che io sappia sicuramente questo modello dove era solo localizzazione di contenuti ma si faceva da Berlino lo facevano veramente dovunque si potesse fare dove invece c'erano operations on the ground valutavano un pochino con più di dettaglio la situazione del paese in cui andavano a mettere le operations e appunto l'idea è se funziona perché non può funzionare qua tanto l'idea è uguale il problema è uguale semplicemente un'economia meno sviluppata ma ci si possono fare soldi soprattutto se è un copia e colla traduci sto semplificando evidentemente che posso fare da Berlino fare 10 paesi farne 20 il delta effort è il 3% se so automatizzare bene e quindi probabilmente conviene fare così e questo ti permette di posizionarti sullo scacchiere come early mover in questi paesi e nel momento in cui ci dovesse essere un'economia che esplode un fenomeno eh tu sei lì sei l'incambient praticamente sei l'unico che è una chiave di lettura ma diciamo che nel mondo del digital marketing era più facile era più scalabile era una questione che si poteva era una cosa che si poteva si poteva gestire da Berlino poi ovviamente le operations e vendite era sempre fatto local quindi avevamo sempre i teams però riguardo a Rocket hai ragione il modello di business era questo mi piace raccontarla così i tedeschi in Germania di solito c'è poca c'è poca innovazione sono molto più bravi sui processi che non sulla sull'innovazione e quindi imprenditori tedeschi che cosa hanno fatto hanno detto come faccio a ridurre il rischio nell'innovare faccio cose che già esistono c'era questo concetto dell'arbitraggio geografico prendo dei business dei modelli di business che già funzionano in alcuni mercati e li porto in mercati in cui non esistono che tanti vedono in questa cosa una cosa negativa per me in realtà è la soluzione a un fallimento di mercato perché non ha senso che in Europa o che anche per esempio uno dei modelli che abbiamo lanciato era la Sata che era l'Amazon del sud-est asiatico non aveva senso che il sud-est asiatico come popolazione non avesse accesso a un marketplace della portata di Amazon e siccome Amazon è stato lento a crescere in questi mercati c'è stato invece Rocket che ha costruito il marketplace e l'ha fatto funzionare e ha offerto valore alla popolazione con questo modello di business che sarebbe dovuto nascere in ogni caso vedo in questa cosa molta vedo nel modello di business di Rocket Internet anche molta creatività perché il modello di Venture Studio in cui in cui si trovano modelli di business già esistenti e si implementano utilizzando capabilities nel mondo del marketing product e tech è un modello abbastanza innovativo loro sono stati adesso non so se i primi ma sicuramente l'innovazione loro l'hanno portata sulla fattorizzazione dei modelli di business su multi country perché come hai detto tu le grandi del tech partono da una country poi aprono un ufficio in un'altra country cominciano a mandarci un po' di gente della country di partenza perché non si fidano dei local poi fanno un po' di mix questo è anni ok prima che Amazon arrivi in Cambogia campacavallo costruisco la Sada e poi magari vent'anni dopo ci faccio l'exit ad Amazon che ha deciso di occuparsi della Cambogia cioè voglio dire va bene così non è che muore l'exit c'è stata ma è stata Alibaba che l'ha acquistata esatto che nel frattempo nessuno guardava i cinesi stessa cosa con Zalando abbiamo costruito dei modelli che non c'era non c'era un retailer e-commerce per la moda non esisteva in Europa sembra una cosa folle al giorno d'oggi ma nel 2008 quando è stata costruita a Zalando era una cosa completamente innovativa esatto e quindi scusa fai per un annetto allora metti in piedi questa Carmudi e la parte cioè più che l'azienda metti in piedi la parte di performance marketing l'automation la localizzazione dell'advertising che supportava questi business in 15 paesi la North Star rimaneva la stessa era quella che voglio fare l'imprenditore quindi volevo acquisire le competenze che mi permettevano di fare l'imprenditore nel mondo digitale ok sto diventando forte nel digital marketing nell'automation mi sembrano cose abbastanza utili ho imparato un po' di cose è il momento di farlo io e quindi cosa è successo quando ero lì a Carmudi e la Mudi praticamente io mandavo un report settimanale a un indirizzo email forwarding si chiamava management non avevo idea di chi ricevesse questa roba io pensavo fosse solo i fondatori e un paio di c-level all'interno di questa start up la verità è che la audience di questa distribution list lista di distribuzione era l'intero management di Rocket Internet ok quindi i managing director il CEO e tutti e anche Oliver Summer stesso che è il fondatore di Rocket Internet vedevano il mio report settimanale sull'azienda le performance e su quello che stavo costruendo e l'impatto che avevamo su tutti i mercati immagino che non fosse solo un report a tabella ma magari c'era anche il commento che questo io dico sempre mettere il grafico nella slide e basta perché il valore è il tuo commento non i numeri e basta alla grande sempre è stato importantissimo esattamente che cosa avevamo fatto per ottenere i risultati raggiunti e come dovevamo leggere questi dati ok e quindi io facevo questa cosa ogni settimana ogni settimana senza mai perderne una e il giorno in cui ho deciso di lasciare di lasciare l'azienda perché pensavo di avere abbastanza competenze di costruire qualcosa io succede questo do le mie dimissioni il CPO dell'azienda lo viene a sapere il CPO dell'azienda a quei tempi era uno dei CPO Chief Product Officer itineranti il CPO di Carmudi o di il CPO di Carmudi io al momento ancora non sapevo non sapevo che nulla riguardo a chi leggeva i miei report però lui era itinerante e andava in tutte le aziende di portafoglio e aiutarle nella fase iniziale nella costruzione del prodotto però in realtà lui lavorava per l'edquart e tu invece al di là che non lo sapevi ma non avevi esposizione diretta a Rocket tu eri carmuda non avevo mai parlato con nessuno io ricordo che ai tempi dell'università guardavo il sito di Rocket e guardavo queste persone come fossero dei io li guardavo dalla biblioteca anche dalla biblioteca di Carpi quando cercavo di studiare cose e-commerce e competenze digitali io li guardavo dal basso verso l'alto e dicevo wow come deve essere lavorare con queste persone ok e quindi questo CPO appena ho dato le dimissioni manda una mail al CEO di Rocket Internet nel quartiere generale dicendogli ha dato le dimissioni è arrivato il momento giusto per portarlo dentro a Rocket quartiere generale ma scusa e tu avevi un altro cioè ti stavi dimettendo ma avevi qualcos'altro o era no 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 nulla io non ho mai dato dimissioni nella vita avendo un altro lavoro ok già perché tu eri mi dimetto così avrò il tempo e il modo di andare a cercare un problema da risolvere faccio un'azienda intorno e poi mi sono sempre sentito è una cosa che magari è solo mia non voglio darlo come consiglio agli altri ma mi sono sempre sentito mancare di rispetto all'azienda nella quale nella quale ero se il sotterfugio avessi fatto colloqui con qualcun altro è una cosa è una cosa che un po' non riuscivo molto a gestire come stesso e comunque io volevo lavorare per me stesso volevo lanciare il mio business e quindi ho deciso di lasciare questa azienda e poco dopo nella stessa giornata mi arriva questa mail con la subject line oggetto coffee dal caffè dal CEO di Rocket Internet e io lì per me è stato un grande shock perché ho detto ma questa persona sa che esisto certo e è stato un momento molto bello per me e ho detto ovviamente ho accettato subito e sono andato a prendermi un caffè e praticamente lui mi ha detto guarda noi vediamo tutti i tuoi report e sappiamo che le cose le sai fare sappiamo che sei bravo e sappiamo che non possiamo perderti quindi tu adesso ci dici che cosa vuoi e noi facciamo in modo che tu ce l'abbia e io ho detto voglio lanciare voglio lanciare una start up e lui mi ha detto ma scusa ma noi siamo una fabbrica di start up perché non lanci con noi e io ho detto vabbè perché no consideriamola sta cosa lui mi ha detto vieni da noi in ufficio tra un paio di giorni ti facciamo vedere tutti i modelli che vogliamo lanciare tu ci decidi quello che ti piace più e lo lanci tu ok vabbè lì devi cioè sono sveglio ti devi schiaffeggiare esatto l'ho dovuto schiaffeggiare ho detto ma questa cosa sta veramente accadendo ok ed è stato un momento bellissimo nella mia vita perché secondo me secondo me il networking è questo il networking è fare vedere è essere in grado di dimostrare che hai che hai delle capabilities avere una vetrina ma tanto spesso il networking non è andare all'aperitivo a conoscere gente a fare a stringere a fare due chiacchiere a caso spesso il networking costruire un network è tanto avere l'opportunità di fare vedere di avere di dimostrare che hai competenze vere e le persone che vedono che hai competenze vere hanno interesse a collaborare poi in futuro ed è stato questo 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 seme che ho piantato e non avevo non avevo idea di aver piantato certo e tra l'altro mi piace sempre citare questa che io ho sentito da gioco willing che ma sicuramente non è sua che the way you do anything is the way you do everything no? cioè alla fine quando tu non sai chi c'è dietro un indirizzo email la cosa più umana da fare è dire ma chi se ne fotte cioè sono sono non lo mando tutte le settimane stas settimane non c'ho il dato chi se ne frega oppure mando col copia e incolla senza il commento e c'è essere sloppy su una cosa che non pensi abbia valore è facile ok? e torna al discorso del clefing di qui sopra tu dici no perché se qualcuno mi chiede di farla e by the way a prescindere da chi ci sia dietro questo indirizzo email questo report è la sintesi del lavoro che faccio io ergo se io lavoro bene il report deve essere fatto bene perché la gente non guarderà mai cosa tu fai nel tuo dettaglio quello è il lavoro tuo la gente guarda la sintesi del tuo lavoro e quindi il tuo dovere e quello che una persona intelligente farebbe è quello di dire anche la sintesi deve essere fatta bene non solo il lavoro perché se faccio il lavoro bene la sintesi male non mi dicono di lanciare quello che voglio lanciare a scelta tra portfolio companies che volevano lanciare e quindi anche qui c'è una lezione fondamentale che è curare il dettaglio non è essere obsessive compulsive ma è voler fare le cose fatte bene ed è un indice di qualità perché se io curo una mail del genere al minimo dettaglio secondo te che livello di cura ho del mio lavoro totale totale e questo è il miglior biglietto da visita come dici tu quando vai a fare networking tu vuoi che quello ti preceda perché a quel punto se no il caffè non te lo offriva oppure ti invitava poi ti diceva paga tu che non vuoi fare il miglior biglietto da visita che esiste è l'ottimo lavoro certo quello che ti permette di fare buon networking certo ma hai ragione io quando mandavo quella mail non lo facevo per farmi vedere io lo facevo come parte della mia mansione certo era il mio lavoro era la mia responsabilità ed era la mia disciplina nel fare le cose che dovevo fare e quella è una cosa importante perché poteva succedere poteva accadere il mondo ma io quella mail la mandavo ogni settimana allo stesso momento e riflettevo sulle cose che erano importanti quello è stata una cosa molto importante certo e così quindi scegli scegli la tua prossima avvento choose your destiny peschi la carta e dove vai a finire e indovina un po' ho scelto la cosa più difficile che potessi fare la ai tempi io avevo solo 25 anni e quindi per me era ancora era ancora per me per me era importante massimizzare ancora le competenze non pensavo all'exit non pensavo ai soldi non pensavo al risultato finanziario ho detto qual è la startup che mi permette di crescere perché sai il percorso è la cosa più importante per me qual è la startup che mi permette di crescere più velocemente possibile e ho deciso di fare shopwings praticamente una startup che faceva consegna della spesa a casa con fattorini con fattorini indipendenti utilizzando grandi retailer affacciandosi a grandi retailer per fare la spesa per fare picking con una mobile app modello difficilissimo perché le economie erano estremamente complicate modello simile a Everly in Italia modello molto molto complicato negli Stati Uniti c'era Instacart che era il nostro modello PR che aveva ai tempi aveva ricevuto una valutazione di 2 miliardi e quindi a Rocket gli investitori avevano deciso vogliamo costruire provare a costruire questo modello in Germania e poi portarlo in tanti paesi nel mondo in Germania era il posto peggiore dove costruire questa cosa ma non andiamo a parlarne perché comunque sono i basket bassi la gente preferisce gli sconti poi metto il pagamento da red debit che è un casino questa roba esatto però abbiamo ho detto lo stesso ok questa sfida mi sembra molto interessante perché è molto difficile a livello di economics è molto difficile a livello di operations è molto difficile a livello di marketing è difficile a livello di tutto quanto e quindi se vado a fare questa cosa e imparo a farla mi rende ancora molto meglio rispetto alla persona che ero ieri al professionista ieri quindi si ricollega un po' al solito tema e così ho deciso di fare questa cosa e abbiamo Rocket Internet ha messo 25 milioni di funding nella startup che abbiamo lanciato sia sia in Germania a Monaco Berlino che in Australia Sydney Melbourne dopo un po' ci siamo resi conto che le economie non funzionavano le unit economics non erano profittevoli e che i grandi retailer non avrebbero avuto incentivo a fare una partnership con noi perché non avevamo abbastanza potere di negoziazione e crescere a un volume tale da renderci interessanti per loro sarebbe stato complicatissimo il più grande retailer della Germania a un certo punto aveva deciso di fare un pilot con noi ma a due settimane dal pilot poi si sono tirati indietro dicendo lo facciamo noi la parte digitale la facciamo noi non abbiamo bisogno di voi praticamente avevano voluto imparare come lo facevamo per poi provare a replicarlo loro che non dirmi neanche ma non ci sono riusciti ancora oggi sono fatto tantissimi anni e non l'hanno fatto e noi purtroppo essendo una piccola start up abbiamo dovuto chiudere in Germania certo quella è stata una grande una grande botta però poi io sono andato sono andato a vivere in Australia ai tempi per gestire il business da là e alla fine abbiamo deciso di abbiamo finito il funding e non abbiamo trovato altri investitori alla fine abbiamo fatto una fusione con un'altra azienda locale e il business ha continuato a sopravvivere non è stata una grande storia di successo però è stata una storia una storia molto importante nella mia vita a livello degli insegnamenti che ho ricevuto e delle competenze che ho potuto acquisire e finisce questa cosa e mi ricordo ancora l'ultima chiamata con Oliver Samori il fondatore di Rocket e Alexander il managing director di Rocket Internet dove spieghiamo io e l'altro managing director che usciamo dal usciamo dalla start up perché sarebbe stata la cosa migliore da fare per farla continuare a vivere in quel momento a livello di economie a livello di grandezza dell'azienda volevamo tagliare costi e quindi ci siamo tagliati anche noi come costo certo e abbiamo abbiamo lasciato l'azienda in mano al management esistente dell'azienda con cui abbiamo fatto la fusione e lì dopo questa chiamata Oliver Samori ha detto a Alexander gli ha detto non li possiamo perdere non è stata colpa loro questo mercato questo business model è molto difficile teniamoli e facciamogli costruire qualcosa di nuovo allora poi da poco tempo da poco tempo dopo mi chiama Alexander Kudlisch e mi dice abbiamo una nuova start up che vogliamo lanciare FinTech a Londra si è disposto ad andare a vivere a Londra tra un paio di settimane non ce la faccio dopo dopo questa esperienza sono veramente un po' in burn out è stato abbastanza è stata abbastanza dura sia a livello personale a livello di identità personale che a livello fisico mentale e quindi ho detto no questa cosa non la faccio almeno non al momento rimango un po' in Australia mi occupo di altre cose magari faccio un po' di consulenza faccio un po' di advisory e in realtà poi tornano da me con un'altra con un'altra proposta mi dicono ci avevo pensato su e tu hai tante cose importanti hai esperienza come imprenditore sei bravo in statistica matematica conosci il digital marketing molto bene e sei e te la cavi bene come manager perché non vieni a fare il CMO di Rocket Internet che quasi viene da dire meno male che hai detto no alla fintech a Londra meno male è stata la cosa è stata l'opportunità professionale più importante della mia vita certo un treno di quelli che non sarebbe mai più tornato me l'hanno detto me l'hanno detto anche loro it's a one once in a lifetime train mi hanno detto vuoi prendere o non vuoi prendere questo treno e io non avevo fatto domanda per questo lavoro ma c'era perché poi tante volte le aziende soprattutto quelle sveglie agili come Rocket quando hanno una persona come dici tu cioè il ragionamento che loro fanno tante volte è lui è bravo a fare questo 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 e questo magari creiamo un job per questa persona perché non sfruttare questo talento è una cavolata e allora la domanda che ti faccio diciamo è relativa a te però in generale la riflessione su questo tipo di situazioni quello che ti sto chiedendo è ma c'era il job di CMO available e quindi era andato via qualcuno che ne so oppure non ce l'avevano e ho detto senti secondo noi Enrico può essere quello giusto no in questo caso lo avevano però mi ci rivedo anche nel tuo ragionamento in questo caso il lavoro del CMO di Rocket era in realtà molto ma molto ma molto importante cioè tanti mi chiedono ma che cosa fa il CMO di Rocket il CMO di Rocket era chi costruiva tutte le nuove aziende da zero perché un concetto fondamentale di Rocket è questo quello cui noi abbiamo sempre pensato era che ai tempi per far sì che un'azienda nel mondo digitale avesse successo era necessario essere forte in tre pilastri quello del marketing quello del prodotto e quello della tecnologia le altre cose si potevano trovare si potevano ricostruire ovviamente i fondatori sono un driver fondamentale ma a livello di competenze specifiche hard skills quelle tre erano quelle che facevano la differenza e quindi l'idea era questa invece di fare errori gli stessi errori ogni volta che lanciamo un nuovo business una nuova venture internalizziamo queste competenze e utilizziamo le stesse persone per lanciare ogni nuova venture ah quindi era un competence hub che praticamente aiutava a fare take off e poi buttava le persone dentro l'azienda nel momento in cui l'azienda era big enough bravo ok con l'aggiunta che eravamo anche il punto di riferimento per tutte le competenze mondiali cioè costruivamo tutti i blueprint mantenevamo le relazioni con i più grandi vendor come Facebook e Google e tutti gli altri perché la nostra spesa era molto importante a livello di gruppo e quindi avevamo accesso a tantissimi servizi che non sono hobby per tutte le aziende e costruivamo questa knowledge questa conoscenza che veniva ridistribuita a tutte le aziende nel mondo a quei tempi eravamo in 110 paesi nel mondo e quindi avevamo 20.000 20.000 persone che lavoravano a Rocket in giro per tutto il mondo e il team di Rocket era importante era un team di 100 persone in marketing solo in marketing erano centinaia di persone tra le più brillanti che io abbia mai conosciuto nella mia vita e quindi per me ricevere l'onore di poter andare a fare quel lavoro in un momento in cui per farti un'idea il vecchio Siamo di Rocket prima di me è diventato il direttore di Growth nell'headquarter di Facebook a Merleau Park Facebook vedeva le competenze e il livello di sofisticazione di Rocket in modo talmente positivo da venire c'era Cheryl Summer che veniva ogni anno all'headquarter di Rocket per cercare di capire come facevamo le cose e per poterle replicare per gli altri clienti ok perfetto pensa che roba è un bel attestato di fiducia sì sì infatti ai tempi era veramente quindi immaginati io come persona insicura come mi sono potuto sentire quando mi è stata offerta questa cosa che era non una ma cento volte più grande di me certo io questa cosa la vedevo come il massimo dei massimi ed era la mia opportunità di andare a mettere la mia fotografia vicino alla fotografia di questi dei che io ammiravo dalla biblioteca certo tanta roba unico italiano nel management team di Rocket Internet ed ero anche più giovane sì perché qui avevi non avevi ne ancora trent'anni ventotto ecco perfetto avevo ventotto anni e mi era stata data questa opportunità gigantesca molto più grande di me cosa faccio e dico di sì non ero in grado di fare questo lavoro secondo me non ero in grado di fare una cosa così grande ma io glielo ho detto a loro gli ho detto guarda che io non mi sento in grado di fare questa cosa è troppo grande rispetto a me che loro mi hanno detto non sottovalutarti tu hai esattamente abbiamo scelto te perché tu hai esattamente quelle competenze che noi vogliamo sei la persona che vogliamo in questo momento questo non ti ha dato un po' di boost perché torna al discorso che dicevamo prima del fatto che aver scelto la cosa difficile esserci dentro ti auto qualifica da un certo punto di vista cioè questi di mestiere piazzano founder quindi concettualmente scegliere la persona giusta per il job è forse la cosa che sanno fare meglio forse e se stavano scegliendo te forse significa che come si può dire quella tua quella tua insicurezza era mal riposta cioè riescono magari a razionalizzare un pochino questo tuo accettare l'incombenza che ti viene data come meritevole non so come dire vorrei poterti dire di sì ma avevo una paura immensa sì certo mi sono sentito lì la sindrome dell'impostore è arrivata mi è piombata addosso come 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 una non lo so come una malattia gravissima perché io lì per lì stavo per dire no non ci torno a Berlino a fare questa cosa perché vado là e faccio una figura dell'imbecille certo dell'incompetente non so fare questa cosa è troppo grande rispetto a me e sono ai tempi c'erano già più di 100 aziende in portfoglio e sarei stato un po' il portavoce per tutto il marketing a livello di Rocket Internet in tutto il mondo non mi sentivo non mi sentivo all'altezza semplicemente però ci ho riflettuto e ho deciso c'è un'opportunità nella vita che non puoi alla quale non avrei potuto dire di no e ho deciso di farlo tant'è vero che i primi i primi sei mesi come siamo di Rocket Oliver Samori il fondatore non mi ha non mi considerava proprio in ufficio non passava neanche davanti a me non salutava nemmeno Oliver Samori è poi un personaggio molto molto particolare ed è una di quelle persone per le quali la fiducia va conquistata a pezzo a pezzo quindi nonostante avesse visto tante cose durante gli anni non era come se io non esistessi e mi sono dovuto ricostruire un po' tutto tutto quel lavoro quella fiducia a pezzo a pezzo facendo quello che sapevo fare meglio che è ottimo lavoro e quindi testa bassa e lavorare testa bassa e lavorare e quindi è stato un po' così ok e questa esperienza di marketing officer fino a questo momento ripeto scorrendo linkedin è la più lunga che hai avuto due anni e tre mesi sei rimasto cioè quello che doveva essere il tuo Everest in realtà è stato un plateau quasi che ci sei rimasto per un pochino di tempo alla fine il passo devi averlo anche evidentemente trovato sì sì è stato è stato il lavoro più bello della mia vita e vabbè io la vedo la vedo in modo un po' più positivo rispetto alla tua nel senso che sono stato io dico sempre sono stato sette anni a Rocket c'era anche molta mobilità interna a Rocket nel senso che nel senso che in realtà si andava spesso da una portfolio company all'altra ed era una delle cose belle di Rocket Internet e quindi in realtà è vero che sono stato sono stato un anno in una posizione un anno in un'altra ma la verità è che era sempre il contesto Rocket Internet e quindi sono ho passato sette anni a Rocket certo in totale senti io volevo solo commentare di questo lavoro l'ultima frase che scrivi qui nel tuo nel tuo LinkedIn che è ho supervisionato un team di brillanti digital operator ed engineer task to enhance growth of portfolio 200 companies no a me piace sempre veramente tanto quando un leader nel tuo caso ormai è un'ora e venti che parliamo quindi la gente ti ha capito che non lo dici perché lo imposti ma lo dici perché lo vivi quando un leader riconosce che il suo ruolo è quello di essere un leader leader è bravo se sono bravi anche quelli che stanno sotto e il leader fa il suo mestiere di levarsi dalle balle il più possibile cercare di fare il moltiplicatore di valore perché questo deve fare un leader deve fare il lavoro di nessuno ma deve essere una guida deve togliere gli ostacoli deve facilitare il talento delle sue persone affinché tocchi terra con il massimo grip possibile no e a me piace che tu l'hai enfatizzato qui anche perché se tu hai un'azienda come descrivi qui ma l'hai detto anche prima di grandi talenti e poi vai a dirgli cosa devono fare come devono farlo e quando non funziona no quindi mi piace molto questa tua sottolineatura ma infatti come dicevo prima tanti di loro erano un milione di volte migliore di me nelle loro competenze e quindi anche per quello mi sentivo non all'altezza tante persone che io ho considerato anche mentori nelle loro diverse skills e funzioni all'interno di Rocket che mi hanno aiutato negli anni sono poi venuti a far parte del mio team e io ho tantissimo rispetto per loro e gli italiani che ci ascoltano che facciano parte del team di Rocket sono per me sempre grandi idoli ce ne sono diversi che ascoltano questo podcast che li ho conosciuti nel percorso quindi salutiamo salutiamo tutti li saluto li saluto tutti e sono persone meravigliose in cui ho avuto il privilegio di lavorare che per me è stato veramente un privilegio avere le parti del mio team certo senti però agosto 2018 quando io compio 38 anni tu decidi di finire la tua avventura in Rocket agosto 2018 ho fatto una cosa ho fatto una cosa molto particolare e sono tornato a scuola ok che non la vedi lì su LinkedIn perché di solito confonde la gente il fatto che ho fatto un MBA dopo aver fatto il CMO di Rocket e dopo aver fatto il Chief Growth Officer della startup una delle startup più grandi di Rocket che è HelloFresh certo sono andato a conquistare una di quelle cose a spuntare una di quelle caselle che avevo lì da tanto tempo ok per la cosa di voler fare un MBA in un'università perché tu a questo punto hai 30 anni giusto esattamente 30 anni bravo stai tenendo i conti della mia età esatto 30 anni e a 30 anni io decido di andare a fare un MBA colpo di scena tutti qua mi chiedono perché hai fatto una cosa del genere che senso ha ma perché ci ricolleghiamo al discorso di prima che ognuno nella vita ha le proprie KPIs e per me era molto importante più importante il percorso che non la destinazione ai tempi ero fortunato perché avevo ottenuto un po' di cose qualche successo perché a Rocket Internet le cose sono andate molto bene ma Rocket ai tempi si stava trasformando da incubatore a investitore VC le competenze interne per la costruzione della startup servivano un po' meno ai tempi la nostra portfolio company più grande in assoluto che aveva appena fatto l'IPO era HelloFresh e quindi Oliver Summer mi aveva mandato negli Stati Uniti dicendo ehi devi fare in modo che dopo l'IPO la crescita sia la più grande che abbiamo mai avuto perché questo è il periodo più delicato in assoluto e quindi perché quella diventa poi la case history se quella è così tutte le altre sono così esatto ma poi tu come investitore non puoi vendere le tue quote di mercato fino a che non finisce il lock up period e quindi è molto importante preservare il valore dell'azienda o anche crescerlo dopo l'IPO e quindi per loro era talmente fondamentale che la cosa più importante che potessi fare come sia Moody Rocket era venire qui a New York per poter gestire HelloFresh il team di crescita da qui e fare in modo che si andasse per il verso giusto ed è stata una grande storia di successo perché HelloFresh in quei tempi è diventata la più grande mia al kit delivery company nel mondo e ha superato il competitor più grande negli Stati Uniti e quindi io mi sentivo sentivo di aver fatto quello che dovevo fare di aver completato la missione e quello sarebbe stato il momento giusto per fare una cosa per me prendermi un po' di tempo e provare a fare una cosa per me e quindi ho fatto questa unica domanda di ammissione a una sola università nel mondo per fare l'NBA perché a me interessava quello solo e è andata come come è andata bene e ho deciso in agosto 2018 di andare a fare questa cosa certo stiamo parlando l'ho detto prima a caso ma forse c'era un po' di inception nel mio cervello Harvard ovviamente stiamo parlando di Harvard e tu hai scelto loro poi io mi immagino sto admission manager che si è arrivato al CV nel senso di Rocket Internet e penso che quel CV si è fermato a leggerlo forse il rischio che non lo leggesse è abbastanza basso perché poi chiaramente le business school hanno l'obiettivo anche di avere diversity di profili e tutto sono tutti consulenti delle big four e invece questo è diverso giovane digitale senior cioè avevi una serie di spunte che gli facevi fare la quota e quindi hai fatto l'NBA ad Harvard nel 2008 perché lì è un anno no 2018 2018 sì sì scusa 2018-19 è un anno giusto due anni ok quindi hai fatto due anni di MBA ad Harvard però non hai fatto solo quello perché io vedo qui che te ne hai occupato ho qui esatto ho continuato a lavorare prima come advisor e consulente per HelloFresh ma anche con il VC Rocket Internet il VC di Rocket Internet che è chiamato Global Founders Capital io praticamente facevo da partner con loro nel senso che facevo operating partner nel senso che aiutavo l'azienda di portfoglio ma allo stesso tempo facevo investimenti e guess what facevo tanti investimenti anche sui miei compagni di classe di università in realtà è stata una scelta che sembra folle ma è stata una scelta che mi ha anche aiutato a livello professionale allora sì no anche perché qui hai cioè giusto per dirne un paio insomma The Most Success Un Investment Include Deal Breaks Canva Revolut Travelocas Potero Away che voglio dire di queste almeno tre sono note anche a tutti gli italiani credo esatto infatti avevamo un portfoglio abbastanza importante e comunque Harvard Business School è un posto in cui ci sono tanti ragazzi che lanciano le loro aziende lanciano le loro start up quindi io ero sposto a loro nei miei compagni di classe potevo avere accesso a questi investimenti in modo molto più facile rispetto a un altro partner che veniva da fuori e quindi una cosa che ho dovuto tagliare è la vita sociale però cioè mi è costato sacrificio questa cosa perché comunque non se non ho mai visto l'interno di una discoteca Cambridge non ho mai visto tanti tante 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 serate di networking e se chiedi a miei compagni di classe ti dicono ma lui era quello che era sempre il telefono il pomeriggio ah ok perché giustamente avevi questo lavoro quindi tu sei rimasto dentro Rocket Inter con un ruolo diverso più sulla parte investimento e tra l'altro questo ci fa da segue poi per quello che viene dopo però dici nel frattempo mi tolgo sta voglia metto la spunta voglio fare un MBA imparo il metodo mi faccio anche il network qua dentro che by the way poi siccome ho l'altro cappello mi crea anche delle opportunità di investimento diretta nel breve figata pazzesca chiaramente questo diciamo siccome le ore nel giorno sono 24 in qualche maniera qualcosa si vede da perdere in qualche modo da qualche parte devi perdere ok con orgoglio dico che non ho mai perso una sola lezione nei due anni di MBA certo ma questo significa avere chiare le proprie priorità cioè tu dici sono qua per fare l'NBA io fai l'NBA poi c'ho un lavoro faccio il lavoro poi è ora di andare a letto io vado a letto esatto esatto con le ore rimanenti del giorno andavo a dormire ok però è stata un'esperienza stupenda che sono veramente felice di aver fatto molti mi consideravano folle perché anche HelloFresh HelloFresh ha avuto un successo clamoroso negli anni soprattutto durante il covid dove era difficile trovare trovare cibo trovare consegna ho avuto una crescita pazzesca e lo stesso fondatore di HelloFresh mi ha detto ma tu sei pazzo andare a fare un MBA sei un folle ma io ho detto ma io non ce li ho gli stessi obiettivi che hai tu la mia vita è diversa io voglio fare altre cose voglio avere il mio percorso voglio vivere voglio vivere esperienze che mi arricchiscono e continuare a farlo e quell'idea di voler vivere la vita di ogni giorno e fare cose e amare il percorso e non solo la destinazione per me ha avuto molto senso farlo sono orgogliosissimo di averlo fatto e così e poi è arrivato il covid due mesi però non avevi un what's next in testa cioè perché finora non l'hai citato quando tu hai detto faccio l'NBA proprio con lo spirito che ti ha contraddistinto fino adesso hai detto faccio l'NBA perché voglio fare l'NBA non perché voglio però la nostra rimane sempre nella mia vita l'imprenditoria l'imprenditoria però dici questo è un right to pass la giornata che c'ho già in testa poi farò eccetera eccetera e poi we'll figure it out quindi ti ritrovi in mano col pezzo di carta e sei nel mezzo della pandemia questo è più o meno la sintesi giusto? esatto esattamente ok a questo punto che succede? a questo punto succede che non non posso rimanere negli Stati Uniti in realtà avrei potuto ma mi sarebbe costato tanto nel senso che sarei dovuto rimanere negli Stati Uniti per anni senza vedere la mia famiglia per mantenere il visto perché tutti i visti venivano cancellati perché usciva dagli Stati Uniti non potevi tornare indietro e e quindi ho detto vabbè non ne vale la pena alla fine alla fine la mia famiglia e le persone che amo sono più importanti e non solo questo ma Global Founders Capital anche aveva deciso di chiudere gli uffici a New York aveva chiuso un po' di uffici dicendo ok in questo momento della pandemia prendiamocela riduciamo un po' i costi perché non sappiamo come vanno a finire le cose ok lockdown eccetera gli uffici non erano neanche così importanti e quindi e quindi le cose sono cambiate un po' e così ho deciso di tornare a Berlino alla fine Berlino mi ha riattirato per tre volte nella vita sono scappato tre volte e per tre volte mi ripreso e sono tornato a Berlino che è un posto che è un posto meraviglioso e dovevo decidere cosa fare sapendo nella mia testa che era un momento un po' difficile per il mondo delle start up e sapendo anche che sapendo anche che quel momento era complicato e che comunque quello che cercavo io e quello che mi quello che mi energizza molto è l'idea di poter lavorare con tanti business diversi il lavoro migliore che ho avuto nella mia vita era in effetti il CMO di Rocket perché avevo la possibilità di vedere ogni giorno un'azienda di portafoglio diversa dall'altra e quindi per me era molto stimolante ho deciso di provare la consulenza quindi sono entrato a fare un po' di consulenza prima a tempo pieno e poi come come signor advisor indipendente che è un po' il lavoro che faccio oggi oggi faccio l'advisor a diverse aziende di diverso tipo tramite consulenza faccio l'advisor aziende aziende grandi e tramite tramite la mia il mio lavoro di advisory di ogni giorno faccio invece il lavoro con start-ups e raccontaci questo passaggio perché questo diciamo siamo un po' nel capitolo 2 di quelli che avevamo detto prima quindi tu adesso sei una persona che ha delle credenziali incredibili che o perlomeno diciamo perché tu poi fai downplay mi guardi storto delle credenziali high on demand facili da vendere mettiamola così però diciamo però finora applicate ad un contesto che in questo momento storico è difficoltà che è il mondo della start-up no quindi dici voglio fare della consulenza e adesso hai appena detto che la percorri su due strade una come intermediario di un ente che ha un suo brand e i suoi clienti e una diretta ce le spieghi cioè il giorno zero quando hai costruito queste due cose come hai costruito la relazione che ti ha portato a diventare una delle leve di un brand poi possiamo anche dire brand tanto su LinkedIn si vede e come ti trovi invece quelle da solo perché oggettivamente lì uno dice sì io so fare tante cose sono utili tante aziende ma non so andarle a trovare queste aziende come le vado a cercare ok in realtà allora tutto questo mondo questa idea parte dal giorno meno uno che è quando facevo l'NBA lavoravo facevo già advisor a diverse aziende ma erano quelle di Rocket o erano esterne era tutto network perché alla fine quando uno parte a fare questa roba è network e il network di Rocket era talmente grande e tante persone sapevano conoscevano le mie competenze che la cosa più facile in assoluto era iniziare con loro ok tanti mi chiedevano il primo in assoluto cliente in assoluto che ho avuto è stato HelloFresh perché HelloFresh era l'azienda per la quale facevo il chief growth office certo alla fine dell'esperienza mi ha detto oh abbiamo ancora bisogno di te non è che stai che rimani per un altro po' per aiutarci per fare in modo che la nuova persona che assumerà il tuo ruolo è in grado di entrare e di riuscire a lavorare in modo di riuscire a fare il lavoro in modo giusto e così e quella è stata la prima azienda poi altre aziende facevano parte del portafoglio di Rocket e mi hanno contattato loro e ho iniziato a lavorare con loro ok quindi quando sono andato full time a fare consulenza è stato un periodo breve perché non avevo trovato quello che esattamente cercavo all'interno cioè l'opportunità di fare tante cose operative con tante aziende diverse mi ho detto ok è meglio che questa cosa la faccio per conto mio perché ho la possibilità di lavorare sia con aziende un po' più grandi che con start up che mi lavorare con le start up mi piace molto di più certo e così sono tornato a fare questa cosa e grazie al mio network sono partito questa è stata la cosa più importante è sempre stato il network l'azienda di consulenza mi ha dato accesso alla pipeline di potenziali clienti perché hanno visto il lavoro che ho fatto all'interno quando ero quando ero dipendente e l'altra parte è il network che ho avuto grazie a Rocket certo solo oggi dopo un po' dopo anni devo anche trovare nuove realtà con le quali non ho mai collaborato prima però il punto fondamentale rimane sempre quello che ho fatto quello che ho fatto prima con le altre aziende ci sono tanti ragazzi giovani che vengono a me e mi dicono voglio fare il freelancer voglio fare il voglio fare il fractional però non hanno un network è molto difficile partire da zero la cosa più facile è quella di vendere alle persone che sanno già quali sono le tue competenze certo no anche perché voglio dire adesso facciamo la sintesi di quello che hai detto negli ultimi 30 secondi cioè uno col tuo network col tuo CV con le tue esperienze con l'NBA di Harvard dice che ci vogliono anni a cercare clienti che non conosci cioè voglio dire questo altro che il tuo consiglio questi sono i fatti che parlano perché io penso che da fuori uno si immaginerebbe che a te suona il telefono ogni 10 secondi e invece se suona è uno che ti conosce quindi è il network altrimenti non suona la gente pur potendo trarre da te un valore enorme se nel mondo è fatto così le grandi aziende soprattutto non si pone la domanda rimane nel suo oppure si rivolge a delle società standard diciamo così dove magari le tue competenze ci sono in maniera magari non così non così approfondita quindi è importante anche il duplice approccio e anche la definizione di dire se io prendo la mia settimana tipo il mio mese tipo che tipo di allocazione del tempo su quale attività vorrei avere e anche tu l'hai detto in passing ma sottolineiamolo una delle due avenues ti stava dando parte di quello che cercavi ma non tutto l'altra parte me la devo mettere io perché altrimenti non ce l'ho non mi piace non sono felice non sono fulfilled non sono soddisfatto no? no infatti però è anche quello che dicevi prima la questione del telefono che squilla tutto il tempo tante persone non è ovvio capire quali sono esattamente le competenze specifiche che uno ha uno dice ok viene da realtà importante ha fatto questo o quell'altro ma sa veramente fare cose perché il rischio di avere cose come un MBA o cose come un la società di consulenza nel curriculum è che tante persone pensano che sei high level superficiale strategico ma che non sai fare nulla sotto c'è fortuna ho rocket nella vita in cui quando uno mi dice qual è il tuo vero titolo di studio io gli dico la verità è che ho un dottorato in esecuzione questo è il mio titolo di studio imparato a rocket però non è non è così ovvio capire che in realtà sono qualcuno sono uno che fa ancora cose operative e ama ancora andare nel dettaglio delle cose che fa ogni giorno quindi è importante anche costruire questa tipologia di brand e questa vetrina per il mondo per far capire come si può utilizzare un profilo come il mio e non è così ovvio per le persone che non hanno lavorato con me no e torna a quello che dicevamo prima alla fine uno deve essere importante a raccontare il suo lavoro e a raccontare se stesso cioè alla fine i puntini del perché tu aggiungi valore in un determinato contesto li devi unire tu non ti puoi aspettare che quello di là faccia il lavoro per te di dirti ah si cavoli aspetta che lui ha fatto un anno in Australia a lanciare il business quindi forse ha l'esperienza di contratti co 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 con i locali gestione sindacato poi ha no 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 lo devi fare tu io infatti quando quando sono candidato io ad un posto di lavoro o quando valuto candidati che applicano posti di lavoro nei miei team io do molto più peso alla lettera di accompagnamento che al CV perché il CV purtroppo molti mandano sempre lo stesso CV io invece consiglio anche nel libro cambia leggermente le parole affinché il CV come l'abbiamo detto prima sembri un match sovrapponibile diagramma di Venna con la job description però nella lettera di accompagnamento che ragazzi deve essere monopagina non scrivetemi un guerra e pace perché non lo leggo posto che oggi potrei chiedere a Gpt di fare la sintesi però ci siamo capiti la lettera di accompagnamento è il modo in cui tu puoi fare framing della tua esperienza come soluzione al mio problema e tanto più chiara è quella lettera tanto più hai probabilità che io ti chiami solo perché ho trovato qualcosa che mi incuriosisce ok mentre invece il CV obbliga a me lettore che come hai detto prima ne ho 10.000 da leggere a unire questi puntini allora è un gioco probabilistico potrei unirli e trovare il tuo CV comunque interessante quindi chiamarti a fare il colloquio oppure magari in quel momento il tuo CV viene dopo uno che ha scritto una bellissima lettera di accompagnamento ho scelto lui e non ho scelto te e tu quell'opportunità te la sei persa no? quindi secondo me è molto bello questo ragionamento che fai sul posizionamento però è anche spesso è anche difficile posizionarsi quando hai tante competenze diverse e nello stesso momento no? si parla tanto dei T-shaped ma a volte ne hai più di una di barre nelle quali puoi andare i kanji giapponesi esatto quindi quando succede questo è difficile perché per esempio io chi sono? sono il CMO sono il venture capitalist sono l'imprenditore sono il consulente chi sono veramente a fine dico ok la competenza che ho costruito di più che ho sviluppato di più nella mia vita è quella del marketing del performance marketing eccetera ma non è l'unica cosa che mi non è l'unica cosa che mi che mi identifica sono anche uno che comunque viene da quel master of science in finanza sa leggere sa leggere i financial statements sa capire sa capire come gestire i flussi di cassa sa fare l'imprenditore ci sono tante cose che mi che che fanno parte della mia personalità e non è non è facile comunicare in modo specifico qual è il valore da poter dare alle alle aziende che 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 mi cercano certo ma tra l'altro tu prima hai detto una cosa l'ho lasciata sfuggire mea culpa però adesso mi hai rilanciato l'ambo e adesso la ripiglio meno male e tu hai detto chi sono prima hai parlato di identità e hai parlato relativamente alla tua esperienza in Australia no hai parlato anche di un fallimento che però non è stato un fallimento identitario e ne avevi parlato anche precedentemente quando avevi detto a Rocket Internet non mi hanno scelto ma non l'ho vissuta come una scelta o meglio un quarto d'ora l'hai vissuta come personale poi ha detto what can I do about it e ti sei fatto sulle maniche e poi la storia l'abbiamo sentita quella dell'Australia è stata è stata più dura però quella della Germania in realtà quella dell'esperienza imprenditoriale è stata molto più dura perché immaginati uno che ha avuto ne ha avute tante vinte importanti no ho avuto il Master of Science in Finanza 110 Lode bravo sono riuscito ad andarmene via a parte la batosta della casa persa che era una cosa completamente esterna ma non era tua non era il mio controllo avevo vinto questa cosa avevo vinto nella prima azienda nella quale ho lavorato mi sono stati dati gli account delle aziende più grandi in questo tempo avevo rivinto avevo avuto questa rivincita con queste persone che mi avevano rifiutato e poi sono diventate o miei clienti o poi mi hanno fatto altro lavoro ho avuto questa grande vincita con Rocket Internet che mi ha permesso di decidere quale startup lanciare e poi questo mega fallimento la realtà questa cosa che dice ok ma allora non sei un supereroe come pensavi di essere sei umano e fai tanti errori anche tu non sei onnipotente non sei in grado di fare qualsiasi cosa e non solo non solo affrontare con la realtà delle cose era la prima avventura imprenditoriale cioè perché questo è il punto che volevo arrivare a dire cioè tu alla fine hai detto io volevo fare l'imprenditore quando uno dice questa frase adesso non so se è il caso tuo ma per gli ascoltatori di nuovo tipicamente sta dicendo che vuole fare l'imprenditore ma sta pensando io sono un imprenditore che non è quello che faccio perché quando io faccio una cosa prendo distanza io sono io e sto facendo qualcosa quando io sono non c'è distanza sono io e nel momento in cui la cosa che faccio diciamo è la base della mia identità e spesso e volentieri questo ruolo il lavoro nella vita delle persone ok io faccio questo ergo sono questo viene a mancare l'oggetto su cui poggia crolla l'identità e questo porta spesso e volentieri a situazioni tu l'hai chiamato burnout alcuni potrebbero chiamarlo depressione altre cose devastanti però è stata la più grande crisi di identità che ho avuto nella mia vita allora non sono così bravo come pensavo di essere quindi ecco sì mi vendono loro mi dicono la storia che non è colpa tua è colpa del mercato è difficile il business ma magari qualcun altro nella mia posizione avrebbe avuto successo era difficile ce la dovevo fare lo stesso è certo non ho fatto le scelte e tante altre cose difficili che ho fatto nella mia vita alla fine l'ho fatta bene questa cosa difficile non ce l'ho fatta e io mi ricordo che proprio quando ero a quella conversazione quando ero a quella conversazione con Alex il managing director di Rocket lui mi ha detto ma sei proprio sicuro che vuoi fare questa sai quanti sai quanti fatturato stanno facendo in questo momento zero mi ha fatto così con la mano sei proprio sicuro e io lì supereroe sì io lo risolvo io ce la faccio e faccio questo business e poi ho preso una batosta di proporzioni mega galattiche e giustamente me la meritavo ed è stato un grandissimo insegnamento nella vita e per fortuna ho avuto quel grande insegnamento però mi è costata tanto mi è costata veramente tanto e quella sicurezza magari in me stesso che stavo costruendo mi è venuta a crollare con un castello di carta ma senti raccontaci questa cosa perché se ti va è capitato anche a me di recente quindi rifiamo cinque minuti su sta roba perché secondo me è utile a tanti allora chiaramente se uno la vede col seno di poi ed è molto bello il seno di poi perché dici ah è fallita questa mi hanno offerto la storia assumendo come l'hai detta tue mi hanno offerto fintech a Londra ho detto no perché ero in burnout qualche tempo dopo mi hanno offerto global siamo aspetta è finita in gloria c'è stato però un lasso di tempo un periodo di merda di crisi di identità di self doubt di forse non sono capace senso del fallimento la domanda che ti voglio fare è a prescindere dal fatto che sicuramente ti ha aiutato il fatto che sia poi arrivato all'offerta di global siamo ma come l'hai gestita anche con l'esperienza con qualche che forse non ne hai di capelli bianchi della telecamera non si vede non si vede perfetto con qualche stai usando il filtro allora con qualche anno in più di esperienza e avendo visto anche perché rocket internet è bello ha fatto tante exit di successo e tante start up che sono andate in bella l'aria quindi insomma in qualche maniera l'esperienza col fallimento uno rocket internet ci deve fare l'abitudine come consigli di gestirla una situazione di grande fallimento per intanto per circoscriverla perché secondo me la prima cosa da fare è circoscriverla cioè fallimento al lavoro deve essere fallimento al lavoro che poi comincia a picchiare la moglie fare altre cose devastanti e poi ridurne l'impatto sulla tua diciamo psiche sulla tua identità per poter poi trovare la forza di ripartire con quella dopo che consigli ti sentiresti dare? è molto difficile è una cosa forse non dovrei dirlo ma in realtà quasi non si supera mai c'è sempre c'è sempre questa cosa che rimane parte di te da quel momento in poi cambia cambia la tua vita completamente e c'è tanto reframing da fare nel senso che invece di pensare a se stessi come fallimento bisogna strapolare quali sono quelle lezioni che si possono prendere per poter migliorare nel futuro e dire ok io posso considerare questa esperienza veramente come un fallimento di persona e non un fallimento singolo isolato di una cosa che ho fatto nella vita quindi c'è un esercizio da fare nel cercare di rendere questa cosa un episodio a sé stante che non è così facile e non bisogna perdere comunque la consapevolezza che tante cose tante cose si sanno fare e tante competenze rimangono nonostante quel fallimento quella parte solida quella base solida continua ad esserci nonostante quel fallimento e poi è anche importante non identificarsi quella cosa lì di identificarsi io sono l'imprenditore è una cosa molto rischiosa perché in realtà noi siamo tante cose nello stesso momento e in quel momento in cui quell'episodio c'è un fallimento è importante anche fare tanto leva su quelle altre cose che ti rendono la persona che sei quelle cose e soprattutto le persone che ti stanno intorno sono fondamentali le persone che ti possono supportare in questo percorso e è fondamentale anche cercare di nuovo di capire chi sei provare a risperimentare e capire chi sei veramente non è così facile quell'ingenuità che avevi prima la perdi completamente perché comunque quelle sono tante persone che hanno una certa ingenuità che vanno nel mondo di imprenditoria a tanti loro magari può andare possono avere successo e hanno vissuto la loro vita con solo successi uno dopo l'altro perché non hanno avuto modo di sperimentare un altro ma è una questione statistica perché hanno avuto solo quell'osservazione Mark Zuckerberg ha lanciato solo quella non ne ha lanciate altre quindi non ha avuto altre osservazioni magari se avesse lanciato dieci start up qualcuna sarebbe fallita chi lo sa anche qui survivorship bias perché noi tendiamo a vedere le storie solo di chi ce l'ha fatta ma non stiamo a vedere le storie a pensare alle storie di tutti quegli altri che sono in proporzione molto più elevata che non ce l'hanno fatta quindi è difficile è difficile astrarre un po' quali sono quegli elementi che fanno di te una persona che rimangono vivi e rimangono veri nonostante quel singolo fallimento certo è un esercizio molto importante da fare ed è molto è molto difficile e poi devi accettare che quella cosa lì ti cambia per sempre però al giorno d'oggi io mi sento molto più sicuro in me stesso in realtà è una diversa sicurezza in se stessi è quella sicurezza in se stessi del sapere che se c'è una cosa che non so la posso imparare ai tempi la mia sicurezza in me stesso era quella sicurezza di dire sono bravo nel mio lavoro e so fare tutto e riesco a superare ogni cosa oggi sono sicuro anche quando sbaglio quindi mi ha cambiato mi ha reso una persona migliore perché sono felice oggi quando vado dai miei team dalle persone dai miei clienti dalle persone con i quali collaborano ogni giorno ho un'idea ed è una cavolata pazzesca e invece loro hanno ragione io non mi sento meno professionista perché ho sbagliato mi sento in realtà molto più professionista perché sono in grado di sbagliare con sicurezza di me stesso e consapevolezza e secondo me quella è un'abilità acquisita che è molto importante certo tra l'altro hai detto due cose bellissime una è reframing mi viene in mente di recente ho visto ho visto il documentario che c'è su Netflix che si intitola Arnold che è diviso in tre parti e parla di Schwarzenegger e lui praticamente dice mio padre da piccolo mi picchiava con la frusta tornava a casa ubriaco picchiava la mamma and I'm grateful e io dicevo what? e lui diceva no perché se lui non fosse stato così io mi sarei trovato bene in Austria e non sarei mai venuto negli Stati Uniti io invece volevo scappare da là da quella vita e alla fine mio padre ha abilitato questa cosa col suo comportamento e dico vedi alla fine quella cosa lì quel tuo fallimento suo padre che lo trattava male eccetera eccetera come hai detto prima e mi è piaciuto che hai negato la mia domanda cioè meglio che io l'avevo domandata male non devi dimenticarti dell'errore ma devi usarlo come propulsore per una crescita e se tu fai questo reframing alla fine quell'errore è la cosa più bella che ti potesse essere mai capitata nel momento in cui riesci a distaccartene appunto da capire che cosa ha guidato quell'errore accettare che quell'errore tutto sommato ci poteva stare date le condizioni le circostanze e capire che cosa poter fare in maniera diversa per poter evitare che capiti di nuovo e poi come hai detto prima nel momento in cui fai un errore e accetti la tua fallibilità sei anche molto più in grado di accettare di non avere ragione in un mitico di accettare che la tua idea non sarà migliore presentata nella stanza eccetera eccetera il che ti rende un contributore più di impatto perché quelli che hanno sempre ragione non sono dei veri team player sono fortunati incredibilmente oppure giocano da soli usano il ruolo per imporre le loro decisioni non c'era invece un altro scusa vai 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 no volevo solo dire è un percorso importantissimo di crescita come leader certo certo e il leader ecco bravo mi hai fatto il segue grazie hai detto che alla fine è importante cercare di definire chi siamo hai parlato di amici parenti conoscenti chiunque io ecco un consiglio che mi sento di dare alle persone è di mi viene in mente Harry Potter non so perché come metafora di prendere dei pezzettini di te e affidarli a persone di cui ti fidi che bella questa cosa perché nel momento in cui ti mancano quelle che nel tuo quando ti senti invincibile lavoro soldi impegno equiti aziende è tutto bello figo però quando crolla qualcosa ti senti messo male è lì avere quegli amici quelle moglie mariti figli genitori chi vuoi che ha un pezzettino della tua identità e che sommati tutti insieme fanno Davide Enrico chi vuoi è lì che devi ritornare ad andare e per farlo io perché voglio sottolineare questa cosa perché per farlo bisogna essere bisogna avere un livello di vulnerabilità che oggi quelli che tendono a sentirsi super uomini non hanno di certe cose non parlano purtroppo qui faccio anche un po' di gender distinction quando dico super uomini intendo proprio super uomini perché le donne tendono ad aprirsi un pochino di più con le amiche gli uomini un pochino di meno perché hanno paura del giudizio ma poi sembro debole ma qua insicuro non va bene eccetera eccetera invece secondo me la vulnerabilità è un super potere perché nel momento in cui io riesco a trasferire parte di me in una persona poi da lì la posso andare a recuperare chiaramente bisogna scegliere bene le persone bisogna farlo nei modi e nei tempi corretti tipicamente è una relazione bilaterale perché quando sei vulnerabile in qualche maniera faciliti la vulnerabilità altrui però va fatto e siccome oggi noi tendiamo ad avere relazioni sempre più superficiali perché viviamo con questo maledetto telefono in mano e facciamo messaggini emoji e siamo convinti che quello sia il modo per comunicare un'emozione io dico no io dico che sedersi al tavolo con un amico col telefono probabilmente in un'altra stanza a bere un calice di vino a mangiare un pezzo di cioccolato è una cosa che crea un'intimità che va sfruttata come appunto momento di ricentramento quando sono le persone giuste che serve mi piace mi piace tantissimo questa cosa e sono completamente d'accordo e c'è anche un'altra cosa che aiuta molto che è collegata a questa che è quella di di guardare lo specchietto retrovisore si guarda sempre in avanti ma non si guarda non si guarda abbastanza all'indietro per dire ah aspetta un attimo ma di cose ne ho fatte un bel po' tante cose di cui essere grato ne ho ho già tantissimo nella mia vita nel presente no? perché spesso si guarda al futuro si guarda quello che uno non ha ma se uno si sofferma un attimo a pensare spesso si ha già tantissimi e quello mi ha aiutato e mi ha aiutato anche tanto tornare nel posto dove sono cresciuto mi aiuta sempre tornare lì perché tante di quelle persone hanno un pezzetto di me e hanno un pezzetto di me negli anni delle mie origini dove sono cresciuto e i miei amici delle elementari delle scuole medie superiori con i quali ancora ho sempre piacere prendermi un caffè perché loro mi conoscono come bambino come ragazzino per le stupidaggini che facevo quando ero piccolo non hanno idea della complessità delle cose che faccio oggi o di tutte queste cose di cui abbiamo parlato e quella cosa mi va benissimo così mi aiuta aiuta tantissimo la mia sanità mentale mi aiuta e mi piace mi fa piacere perché mi fa sentire molto molto me stesso e mi fa e mi ricorda chi sono e dove sono venuto certo il che ti aiuta a essere lucido quando decidi dove vuoi andare vero senti Enrico abbiamo abbiamo fatto un bel viaggio io ti ringrazio è stata una chiacchierata veramente molto molto profonda che con più parallelismi di quelli che pensavo con il mio percorso e ti ringrazio anche perché come dico sempre il primo cliente del podcast sono io e quando faccio questi viaggi mi aiutano anche aiutano anche me a ricentrarmi per chi volesse mettersi in contatto con te magari un founder che vuole chiederti un suggerimento un consiglio un confronto che consiglio diamo qual è il modo migliore per raggiungerti su LinkedIn è un ottimo modo sempre importante però dire qual è il contesto è difficile per me per chiunque mi scrive su LinkedIn dire hai 15 minuti 20 minuti 30 non è così semplice deve essere deve essere una cosa molto specifica anche quando i ragazzi giovani chiedono qualcosa relativo al mio percorso il mio consiglio è sempre di essere specifici perché me perché non qualsiasi altra persona che cos'è che vuoi qual è quel consiglio specifico che vuoi ottenere da me e quel problema che vorresti ti piacerebbe risolvere e poi io sono disposto ovviamente sono disponibile sempre e felicissimo di aiutare le persone che posso aiutare e voglio ringraziare te anche perché hai dato tantissimi spunti di riflessione bellissimi sei riuscito a dire parole cose con parole molto migliori rispetto a me e mi fa molto piacere perché sei riuscito a fare un framing o una sintesi di tante cose che io ho vissuto come spunti sulla mia vita come storia individuale sei riuscito a strarli in concetti molto interessanti che porterò con me dopo questa conversazione quindi ti ringrazio e voglio anche ringraziare i nostri ascoltatori perché non lo do non lo do per scontato il passare del tempo ad ascoltarci parlare è una cosa che io apprezzo tantissimo e ringrazio chi chi ascolta un po' dell'episodio chi ascolta anche tutto certo e senti io chiuderei così proprio per evitarti lo spam chiuderei con l'ultimo grazie che è ad Andrea che ci ha presentati e proprio per dire ne abbiamo parlato prima della cover letter e molti quando parlano di me mi vedono un po' come forse io vedo te cioè come questo personaggio incredibile che ha fatto un percorso incredibile dici quando Davide ti scrive su LinkedIn sicuramente rispondi adesso leggo testualmente ve lo sono aperto quello che io ho scritto a Enrico per far succedere questa call allora retroscena mi scrive Andrea mi dice che conosce Enrico e dice guarda io ovviamente non ti conoscevo non conoscevo il tuo percorso mi dice guarda che secondo me è un'interessante per il podcast allora io cosa faccio prima gli dico tu che conosci lui e conosci me e conosci il podcast gliene hai parlato prima quindi preparami per favore il terreno sì sì ha detto contattalo su LinkedIn allora io che pure uno potrebbe pensare vabbè hai già detto tutto a posto così scrivo la seguente cosa ciao Enrico mi chiamo Davide Cervellino ho avuto la dritta di iscriverti da Andrea credo ti abbia un po' parlato di me nel mio progetto di divulgazione di Office of Cards ma mi farebbe piacere parlartene anche io in prima persona se hai una mezz'ora nei prossimi giorni il tuo percorso è sicuramente eccezionale e sono certo ispirerebbe molti giovani a fare cose che magari non osano o non hanno il coraggio di fare fammi sapere che organizziamo intanto grazie ok quindi contesto ok preparazione ecco l'unica cosa che potete mandare ad Enrico senza contesto come fate sempre io vi ringrazio è un grazie no perché quando sentite storie potete dire Enrico ho ascoltato il tuo episodio su Office of Cards grazie mi ha ispirato mi ha lasciato qualcosa regalerete a Enrico e a me come lo fate sempre quando scrivete un sorriso per la giornata in cui riceverà quel messaggio sempre apprezzatissimo e mi fa tanto piacere quindi grazie a te Davide grazie ad Andrea e grazie a tutti gli ascoltatori di nuovo bene ciao Enrico grazie mille ciao ciao